cari amici ma soprattutto cari amiche di Miss Topolini vi presento questa aspirante molto carina ma soprattutto molto giovane l'aspirante Miss numero? 56 oh 56 pensate vi faccio dire da lei quanti anni ha? 16 16 anni una ragazza mi sembra apparentemente molto timida stai tranquilla sciogliti sei tra amici qui a Miss Topolini io sono molto curioso di conoscerti quindi vorrei sapere cosa fai di bello nella vita se studi se hai qualche progetto per il futuro? studio mi piace diventare una barman una barman come mai una barman ti piace drinkare ti piace stare al contatto con la gente ti piace bere tante volte sai? no magari lavorare in discoteca mi diverte ah quindi la barman insomma il barman in discoteca si sa no così ti diverti e lavori insomma contemporaneamente bene sei qui a Miss Topolini come mai? ti piace il mondo della moda ti piace sfilare si soprattutto il mondo della moda mi piacerebbe entrare nel mondo della moda entrare nel mondo della moda bene senti abbiamo detto come ti chiami non mi ricordo Isabella si Isabella Doz Isabella Isabella che bel nome sei molto timida io vi vedo dagli occhi lo so dovete stare tranquilli insomma mi rendo conto che una telecamera può mettere un po' di quindi insomma suggestione però dovete stare assolutamente tranquille senti fidanzata? si oh vabbè niente a fare visto che c'erano i mister quest'anno magari no chi lo sa trovavi anche l'amore allora guarda la telecamera di un misto poli con tranquillità saluta magari il tuo ragazzo saluta la tua famiglia saluta chi vuoi saluto tutte le persone che mi vogliono bene in particolare Linda la mia migliore amica in bocca al lupo grazie crepia grazie 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 grazie